Musica Seconda giornata del Comitato dei Radicali Italiani Roma-Torre Argentina. Siamo in compagnia di Domenico Spena, che per la terza volta è eletto al Comitato e nonché esponente di Radicali Napoli dell'Associazione Ernesto Rossi. Domenico, volevamo chiederti un po' le tue impressioni sicuramente su questa seconda giornata del Comitato e poi un po' parlarci delle attività locali che svolgi a Napoli. Come Comitato ha dato alcuni stimoli, alcune sollecitazioni, comunque alla fine resta sempre centrare la battaglia per lo Stato di diritto e per la legalità. Ho sentito molti interventi, alcuni appunto pigiano l'acceleratore sulle battaglie antiproibizionistiche che dicono negli ultimi tempi un po' lasciate da parte, altri parlano di diritti sessuali, altri parlano di laicità, eccetera. Poi alla fine praticamente dobbiamo saper convogliare tutte le battaglie, l'unica battaglia per lo Stato di diritto e per la legalità e soprattutto una cosa importante saperle incardinare anche internazionalmente, secondo me. Io non so se, io mi sono iscritto a parlare, non so se lo dirò nel mio intervento perché poi insomma non sono io che devo dirlo, diciamo, sono altri quelli che devono coordinare tutti questi stimoli, eccetera. Comunque ho visto un comitato abbastanza vivace, giovani nuovi insomma che espongono anche dei problemi pratici, ragionevoli insomma che ci sono, che anch'io ho vissuto, vivo tuttora alcuni, la difficoltà di comunicare fra base e periferia, questo è molto importante, a cui appunto stava facendo riferimento l'ultimo ragazzo che ha parlato, un ragazzo molto giovane, questo è importante. Ci sono anche, sì, sì, Leonardo Scandola, è importante, una cosa importante è che ci siano dei giovani che entrano ogni anno, che ci sia anche un ricambio, che comunque rimangano delle colonne come per esempio Bandinelli, Spadaccia, Vecellio, Pannella ovviamente, quello sempre, anche se poi stranamente non è membro degli ultimi comitati ed è un po' un problema secondo me, perché io lo leggerei subito, anche se dicono non si candida perché comunque è un leader carismatico e lo voterebbero tutti, toglierebbe appunto il voto magari a qualche giovane, io penso che un Pannella dovrebbe stare incomitato da comitante eletto, comunque è una mia opinione, è una mia personale e modesta opinione, me la tengo insomma, se no almeno chiamarlo anche in direzione. Domenico, la situazione invece del, ne parlavano vari tuoi compagni, anche della situazione napoletana, delle carceri, dei diritti civili? Sì, i problemi che si vivono in Italia, poi a Napoli diventano sempre tutti giganteschi e poi comunque molto spesso sappiamo, spesso lo sentiamo anche negli interventi del comitato e in altri interventi di esponenti radicali, sono alla fine i problemi che vengono vissuti per la prima volta a Napoli e che poi piano piano si espandono in tutta Italia, diciamo che Napoli è la cartina di tornasole, anche il canarino della miniera d'Italia, quando succede una cosa a Napoli è molto importante saperla studiare, analizzare perché potrebbe appunto arrivare pure in America, per esempio come spesso dice Pannella, la peste italiana, prima ancora di essere peste italiana era peste napoletana, ora questo lo dico da napoletano perché devo ammettere che appunto ci sono degli effettivi problemi, ci sono degli effettivi problemi che ora qui in due parole non ti posso spiegare, però la situazione napoletana secondo me va vista e con molta attenzione e va analizzata con molta attenzione e io credo che i problemi d'Italia non si risolvano se non si parte da una discussione radicale della realtà napoletana, che è una realtà che io vivo tutti i giorni e devo dire, anche se la vivo purtroppo, ti dico purtroppo a un livello un po' più alto dal punto di vista della classe sociale, perché non riesco, mio malgrado lo vorrei, ma non riesco appunto a capire tutto quello che c'è in ballo sulla strada, pur essendo un radicale di strada e questo è un problema. Io comunque vivo in una situazione che non è quella per esempio di chi vive in una periferia, nell'ultima periferia, dove oggi c'è ancora la spazzatura, che ha un parente in carcere, dove per esempio Poggio Reale lo sanno tutti, ci sono quasi 2.400 attualmente detenuti, ma è quello che attualmente c'è lì dentro adesso, perché sono anche stati di più ed è un carcere che potrebbe, non solo a mio parere, che tra l'altro faccio l'avvocato, non nel penale, ma vado e vengo dal tribunale e il Poggio Reale sta lì vicino. Il Poggio Reale è un carcere che, non solo nella mia opinione, ma nell'opinione di autorevoli scienziati della politica penitenziaria, potrebbe essere utilizzato al massimo, se non chiuso, data il problema delle strutture, dell'obsolescenza delle strutture, potrebbe essere utilizzato al massimo per movimentare... Quindi una situazione di transito più che altro? Sì, di coloro i quali devono fare dei processi, oppure comunque delle persone che hanno dei problemi e possono stare in quella zona perché hanno problemi di famiglia, non lo so, però appunto situazioni di questo tipo, non più di 600 persone, ma 600 forse per alcuni sono anche troppi, che sarebbero un quarto di quelli che ci sono oggi e un quinto di quelli che ci sono stati in alcuni momenti. Il problema delle carceri è grave, è grave in Italia, non è possibile, è un sistema che comunque non regge in questo modo carceri vecchie. Poi comunque alla fine, anche se tu fai le carceri nuove, io credo che siano sempre impostate male. Secondo me, chiamatemi strano, però è la situazione che si deve creare nelle carceri, quella svedese. Se proprio vuoi far vivere la vita carcerale a una persona perché appunto è stata condannata e la devi rieducare, perché questa è la nostra Costituzione, appunto non devi farla vivere in cella singola e con il minimo confort possibile per una persona che deve essere risocializzata. Non puoi dire io ti faccio risocializzare a calci, a pugni e mettendoti con altri 20 persone dentro, in una cella spoglia. Voglio dire, sì, la televisione, la televisione in camera, il bagno in camera, cioè secondo me queste sono cose che se noi andiamo in una pensione, oggi se noi andiamo in una pensione di quarto livello, noi pretendiamo, anche se non vediamo la televisione, io voglio dire, non è che gli dobbiamo dare un premio, come qualche demagogo dice, questi non sono premi. Già il fatto che tu hai una persona che sta lontana dalla sua famiglia, dai suoi cari, che non può andare a farsi una passeggiata, è una delle più grosse... Ma si parlava addirittura di negazione dell'affettività, cioè che è una cosa fondamentale. Noi sappiamo che in altri paesi siamo molto avanti in questo senso, c'è la possibilità per esempio di incontrare la famiglia, di incontrare anche sessualmente il proprio padre, diciamolo chiaramente questo, senza ipocrisia, insomma, ci sono per esempio, mi pare addirittura in Francia, che di solito è sempre stata un po' più dura, un paese civile ma un po' più duro a livello di situazione penitenziaria, però lì ci sono un sacco di esperienze in cui praticamente il detenuto riesce a portare avanti un'affettività, un'affettività quasi normale, la normalità ovviamente per un detenuto in cui il punto di vista non esiste. Comunque speriamo che i radicali riescano a sollecitare, a stimolare questo sistema, a riformarsi e questo si può fare secondo me innanzitutto con l'amnistia, perché se no, se non si toglie tutto il marcio che c'è da prima non si fa niente, poi vabbè ci sarà da fare quella riforma della Forense, la riforma dell'ordine giudiziario, però incominciamo con l'amnistia. Vogliamo dire anche una cosa fondamentale, che molte persone che sono in carcere purtroppo lo sono per leggi tipo la Bossifini, la Finigiovanardi, che hanno riempito le carceri per reati, li chiamano così, veramente assurdi, cioè anche per lo stesso fatto di essere su solo italiano per una persona straniera o per una persona migrante è reato. Sì, sono leggi veramente irragionevoli che abbiamo fatto sotto la spinta di chissà quali rettiliani istinti, perché veramente sono leggi inaccettabili, non so perché non vengono dichiarate incostituzionali e speriamo che un domani vengano quantomeno portate all'attenzione della Corte Costituzionale, vengano abrogate soprattutto, anche in parte, in tutto, non lo so, però sinceramente no, è assurdo, in carcere non può andare una persona che magari spinta dalla fame è arrivata nel nostro paese o una persona che ha già un problema di suo, perché drogarsi è già un problema, io voglio dirlo chiaro e tondo, drogarsi è un problema, non possiamo caricare chi si droga, anche se spaccia. Secondo me bisognerebbe, per chi si rende colpevole di reati minori legati allo spaccio di droga bisognerebbe fare un discorso completamente a sé stante, sì rispetto, soprattutto se è tossicodipendente, perché non è possibile, non è possibile anche perché comunque ci sono all'interno del carcere tutta una serie di problemi legati alla gestione dei detenuti tossici, che accumula anche corruzione dei secondini, quindi questo è un problema molto grosso. Comunque sì, la prima cosa è chiedere l'abrogazione di queste leggi veramente irragionevoli e questo è insomma. Un'ultima battuta prima di chiudere, perché i tempi diciamo sono stretti, i tempi delle web tv, sul caso Cosentino, tu cosa ne pensi, la reazione un po' dei radicali e del pubblico? Sì, io ti posso dire che a Napoli per esempio mi sono preso del camorrista, voglio dire, da amici poi, però sono d'accordo con Maurizio Turco, che ti devo dire, se le carte erano quelle, le carte parlano, per il parlamentare parlano le carte che gli vengono mandate, oltretutto Maurizio ha chiaramente dichiarato che lui ha approfondito ulteriormente la questione, se nelle carte, dalle carte non appare che vi siano i tre motivi fondamentali che la legge emette a causa della carcerazione preventiva, solo questo si poteva fare, insomma, poi comunque Maurizio ha spiegato bene la sua posizione, molto bene quella che ti posso risintetizzare io, comunque sono d'accordo tutta la vita. Perfetto, ringraziamo Domenico Spena, facente parte del Comediato dei Radicali Italiani, non che dell'Associazione Radicale Napoletana Ernesto Rossi, grazie a te Domenico. Scusate un po', è la prima volta che uscivo, grazie. Scusate un po', è la prima volta che uscivo, grazie a te Domenico Spena, facente parte del Comediato dei Radicali Italiani, non